Come state, un saluto ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi qui se non avete ancora fatto, attivate la campanella, si avvicina la partita importante per il Milan perché è ancora a secco di vittorie, si avvicina anche il momento di manifestazione barra contestazione dei tifosi, 18.45 il tifo organizzato fuori da San Siro nel garage, accollenza di che tipo lo vedremo per squadra, allenatore, ma nel mirino so che c'è anche la società. Però volevo raccontarvi una barzelletta che fa ridere, sì a me fa ridere, qualcuno l'ha fatta veicolare davvero, chiaramente dal club. Due settimane dopo si viene a sapere che il motivo per cui Zlatan Ibrahimovic è stato assente in queste due settimane, ha saltato la gara con la Lazio, ha saltato la gara di oggi col Venezia, salterà meglio, è perché è andato a fare un corso professionale della durata di due settimane. Ebbene sì, Ibra è andato a quindi aggiornarsi, a imparare per la sua professione, a migliorare il suo bagaglio di conoscenze per poi essere più bravo da un punto di vista lavorativo. Ora, questa cosa sinceramente mi fa sorridere, lo scriveva oggi la gazzetta, chiaramente veicolato da qualcuno e possiamo anche immaginare chi. Io dico ma piuttosto che far uscire una versione del genere, che fa acqua da tutte le parti, non si dica nulla, si va avanti e basta. E invece no, si fa uscire due settimane dopo questa versione. Ora, spero tutti dotati di buonsenso, ma se fosse andato via davvero per un corso professionale, un aggiornamento professionale, l'avremmo scoperto due settimane dopo? O appena iniziava la polemica il sabato sera di due settimane fa? O al più tardi, il giorno dopo, avremmo saputo che il motivo era che era andato per il bene della sua professione, quindi del club. L'avremmo saputo subito, ce l'avrebbero detto subito. Invece per due o tre giorni la versione era vacanze, poi impegno preso prima, due settimane dopo era un corso professionale. Cattivo di noi che abbiamo pensato male. Davvero anche in queste cose noto una gestione che è alquanto imbarazzante. che fa ridere, ma è vero, è vero che è uscita questa cosa qui. Ditemi che ne pensate, commentate, lasciate un like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. E forza mina, oggi più che mai, domani ancora di più, un abbraccione, iscrivetevi.